Una mozione proposta dal consigliere comunale di Foggia Antonio Rizzi è sposata praticamente dall'intero consiglio comunale che attende però da qualche mese di approdare in aula per essere discussa. E' quella relativa ai 114 lavoratori della J&W, ovvero della ex Tozzi Sud, licenziati a maggio dello scorso anno in seguito alla chiusura del sito produttivo presente a Foggia in zona asi da parte della multinazionale. Una decisione che ha provocato la perdita del posto di lavoro di 114 padri di famiglia foggiani divisi tra operai e impiegati. Una vicenda che va avanti da oltre un anno, nulla hanno prodotto gli incontri tenuti tra regione, proprietà e parti sociali. Il consiglio comunale di Foggia, si legge nella mozione, esprime pieno sostegno al Comitato per la rinascita industriale ed occupazionale dello stabilimento ex Tozzi ed auspica l'avvicinamento di nuove realtà industriali interessate al sito. Nella fattispecie, nella mozione, i consiglieri comunali chiedono la riapertura del tavolo tecnico in regione col SEPAC e l'apertura di un tavolo col Ministero delle Imprese del Made in Italy, sempre alla regione, viene richiesto di adoperarsi per prorogare le tempistiche del concordato preventivo della JW Electric e di riqualificare il personale con corsi mirati a finalizzare il reintegro nel mondo del lavoro. Iniziativa lodevole che tuttavia stenta ad approdare in consiglio comunale. Chissà che ciò non accada però a stretto giro.